Se sei alla ricerca di un luogo dove avviare la tua attività commerciale con un focus in particolare sull'attività direzionale, questo è il luogo adatto alle tue esigenze. Vi presentiamo uno stabile su due livelli di circa 300 metri quadri, inoltre troviamo anche tre stanze da utilizzare come ufficio ed un'ulteriore stanza da utilizzare come archivio. Salendo poi le scale troviamo tutta una serie di uffici con stanze climatizzate e sono adatte proprio a lavorare nella maniera più tranquilla, quindi vi invito a venire a vederlo di persona, noi siamo Mondo Immobiliare.